General Electric vuole essere un trusted advisor sui temi della digitalizzazione e dell'efficienza, tutto orientato verso le tematiche ovviamente di un approccio più sostenibile. E all'interno di queste tematiche sicuramente la tecnologia che noi mettiamo a disposizione, i nostri servizi, la nostra consulenza sono fondamentali all'interno di dinamiche complesse. Riteniamo importante infatti avere un approccio integrato che parta dai processi e arrivi fino alla gestione dell'energia all'interno di ambienti di building complessi, piuttosto che di industrie, piuttosto che di data center. E se vogliamo poi approfondire la tematica del data center, rendiamo conto come in questo momento la digitalizzazione ha assunto un trend molto in crescita e quindi il volume dei dati che questi data center devono gestire, la criticità delle applicazioni che devono gestire è fondamentale. E quindi orientarsi verso dinamiche di efficientamento, di resilienza, sono importantissime per orientarsi verso tematiche di sostenibilità. Quindi come divisione Secure Power siamo anche qui a fianco dei nostri clienti con soluzioni tecnologiche, con consulenza, tramite i nostri partner per essere a fianco dei responsabili IT che devono amministrare le proprie infrastrutture che diventano sempre più complesse. Quindi non solo dinamiche centrali ma anche dinamiche on the edge. La resilienza, la sicurezza, l'affidabilità dell'infrastruttura fisica è importantissima. E quindi anche all'interno della dinamica dei data center, l'ottimizzazione di quelle che sono componenti energetiche nell'ottica della sostenibilità è un punto importante e riteniamo di voler essere a fianco dei nostri clienti per aiutarli in questo punto.